Un risultato straordinario per il vostro europeo e anche per te da un punto di vista personale uno dei due migliori schiacciatori di questa competizione? Sì, siamo molto molto contenti per questo successo, questo nostro finale che l'abbiamo guadagnata, soprattutto perché abbiamo lavorato tanto tanto tempo, anni e anni e non siamo mai riusciti a fare quel passo avanti. Adesso con Andrea e il nuovo staff siamo subito riusciti a alzare il livello del nostro gioco e siamo molto molto contenti e orgogliosi che siamo arrivati nella finale. Adesso si torna con la testa sul campionato, già domenica e sabato c'è il campionato, la Supercoppa, subito impegni importanti per tutti voi che parteciperete alla Superlega? Certo, non c'è tanto tempo per riposarsi, però è così, sabato giochiamo già alla Supercoppa a Modena, quindi sono molto contento, non vedo l'ora di andare a Trento. Abbiamo una bella squadra giovane con tanta voglia di lavorare, davvero non vedo l'ora che inizia. Per due punti non vi siete qualificati per il preolimpico, più rammarico o l'inizio di una lunga storia per la vostra nazionale? C'è un po' di rammarico sempre quando perdi la finale, però il nostro obiettivo è di crescere sempre in tutte le partite, ogni giorno in palestra. Sono sicuro che questo è un nuovo passo avanti, un inizio di una storia nuova per la Palavola Sovena. Il momento decisivo in questa finale è stato forse il finale di secondo set dove non siete riusciti a capitalizzare quel vantaggio? Sì, abbiamo avuto un po' di difficoltà, non abbiamo fatto il side-out che potevamo, poi dopo quello è difficile. Francia ha giocato davvero palavolo di alto livello e non ci ha più permesso di entrare nella partita. è peccato perché avevamo la palla nelle nostre mani, però succede. Grazie.